Oggi niente pilole del nostro programma, perché voglio farti qualche domanda. Sei pronto? Allora, sei contento di come vanno le cose in Italia? Sei contento delle tasse che paghi? Sei contento di come funziona la burocrazia? Sei contento di come funziona la giustizia? Se la risposta è sì, che sei contento, allora il 25 settembre puoi stare a casa o puoi votare alla sinistra. La sinistra che ti garantisce di andare avanti così o anche peggio di così. Se invece non sei contento, se vuoi cambiare davvero le cose per il tuo futuro e quello della tua famiglia, il 25 settembre devi andare a votare e devi votare assolutamente per Forza Italia.